a un certo punto il podestà che era padrone di questo pedificio mi ha chiesto di andare a lavorare nella fabbrica a fare i libri paga quelle robe lì e io sono andata lì il capo ufficio era ignazio salemi un comunista questo qui abbiamo parlavamo eccetera eccetera e c'era un altro comunista che era enzo nizza che poi a perché mi giro che poi ha fatto ha messo in piedi la una casa editrice a milano la pietra non so se l'avete sentita nominare questo qui era direttore di un di uno stabilimento di alcolici di alcol non so di alcolici insomma era c'era tanta gente che lavorava al perificio sono state una ventina di persone non tante però era grande il perificio era grande lo stabilimento beh questo qui era un antifascista intanto dovrei però raccontare la storia di mio fratello perché con lui che sono attraverso di lui che sono entrato in contatto con con cioè che o che ci siamo spiegati col capo ufficio lì mio fratello era in guerra era in russia ha fatto la campagna quella tremenda che si sono ritirati e un giorno è capitato lì a torrita ha fatto tutto il percorso saputo che noi eravamo lì è venuto lì cosa faceva è andato a lavorare in un stabilimento salumificio come si dice dove fanno i salami insomma ecco uno stabilimento di che era proprio di fronte al stabilimento dove lavoravo io e si è messo subito in contatto con con i vari compagni lui sapeva già la strada cioè ha chiesto adesso sinistra alla fine ha capito a chi doveva rivolgersi allora ho cominciato a darmi i biglietti da portare o pacchetti o qualcosa a portare a questo salemi e lui mi dava le cose da portare mio fratello e io ho capito insomma che erano che c'era della cospirazione e così ne abbiamo parlato e alla fine io sono poi poi mandetto se volevo entrare io ho detto di sì sì però ti avevano spiegato i rischi tu eri preoccupata no no io ero incosciente noi giovani erano un po anche coscienti dai almeno io avevo 17 anni no allora non eravamo come le ragazze del giorno d'oggi eravamo eravamo diverse e sapevo cosa facevo quello lo sapevo senz'altro anche perché una volta mi avevano già fermato i fascisti mi hanno portato alla sede fascista e perché penso che dubitassero che mio fratello facesse e allora mi hanno interrogato eccetera eccetera io non avevo niente da dire non ho detto niente perché mio fratello l'ho saputo quando dopo che mi ha fatto fare un po la postina col suo compagno insomma ecco no 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 neanche quando mi hanno arrestato i tedeschi non mi sono spaventata assolutamente l'unica paura è che era una ragazza in mezzo agli uomini però sono stata sveglia tutta la notte il giorno dopo mi hanno rilasciato con chiedendomi anche come era andata è venuto un graduato non so che fosse a chiedermi ma l'hanno trattata bene ma non è anche ma ne interrogato ma più di quello non